Con Mirko Taccola qui al Premio La Clestidia parliamo un po' dell'attualità del nostro campionato di Serie A, in particolare del Napoli. Sei rimasto sorpreso dal ritorno di Mazzari sulla panchina dei Partenopei? Sì, devo dire abbastanza, però credo sia una scelta mirata. Credo che De Laurenti se voglia arrivare a fine anno, probabilmente un allenatore di un'importanza diversa avrebbe dovuto fare un percorso non come farà sicuramente Mazzari. Però credo ci sia bisogno di motivazione adesso a Napoli, Mazzari credo sia uno molto bravo da questo punto di vista, però credo che sia più un traghettatore che un allenatore. Quindi farà il suo percorso fino a fine anno, mi auguro bene perché simpatizzo per la mia ex squadra, quindi mi auguro che possa far bene. Anche a livello personale, perché Mazzari è un allenatore in gamba che negli ultimi anni non ha raccolto quello che meritava. Garzia, al di là di come sono andate le cose, era davvero un allenatore sbagliato per questo Napoli? Intanto io credo che Garzia vada premiato per il coraggio che ha avuto, perché sicuramente non era facile prendere una squadra come il Napoli dopo l'annata che aveva fatto. Forse a Napoli gestire una vittoria di uno scudetto non è cosa semplice, sia in campo ma soprattutto fuori. Quindi si era preso secondo me una bella patata bollente e credo che Spalletti avesse intuito quello che sarebbe accaduto e intelligentemente ha passato la mano. Garzia ha avuto coraggio, è stata una scelta coraggiosa e si è ritrovato a dover gestire un impatto ambientale ancora forse troppo euforico da quello che era successo l'anno prima. Però c'è un altro campionato da giocare, c'è un altro campionato da provare a vincere, però a questo punto mi sembra abbastanza complicato per il Napoli rientrare in una lotta per lo scudetto che in questo momento vedo a due. Forse il Milan potrà rinserirsi, però mi sembra che Inter e Juve siano le candidate principali. Mazzari potrebbe ripartire dal 4-3-3, quindi non dal suo modulo classico, però potrebbe continuare sulla strada che è stata tracciata fino a questo momento, in questi anni. Sì, ma mi sembra che il Napoli abbia tutte le caratteristiche per giocare con quel modulo a esterni come Carasvelia, Politano, anche Raspadori si può adattare. Secondo me ha degli esterni importanti che lo possono far bene quel modulo lì. Poi ovviamente tutti sperano nel rientro a breve di Osimene, che credo sia il problema in questo momento principale. Un giocatore del genere quando ti manchi te ne accorgi, insomma. Dicevi del lotto a scudetto un Inter che è la favorita comunque al di là poi della Juventus che se la giocherà? Ma sì, sicuramente la favorita. Sono molto curioso di vedere la prossima partita, lo sconto diretto, che potrà dare anche delle indicazioni in tal senso. Però credo come Rosa, come anche Attitudine, l'Inter in questo momento sia forse un filino superiore. Però vedo una Juve motivata, molto motivata, che darà sicuramente del filo da torcere.